Chi è di là? C'è nessuno? C'è nessuno? Sarà l'attore casertano Tony Servillo, apprezzatissimo in tutto il mondo, il vero protagonista del secondo appuntamento al Teatro Civico 14 di Caserta. Giuseppina la cantante, ovvero il popolo dei topi, questa la pièce che Tony porterà in scena sia sabato 8 alle 21 che domenica 9 ottobre alle 19 nello spazio di Vicolo della Ratta. Giuseppina è la splendida cantante descritta nell'ultima storia nata dalla penna di Franz Kafka quando la malattia che lo affliggeva si faceva più grave. La nostra cantante si chiama Giuseppina, chi non l'ha sentita non conosce il potere del canto, così lo scrittore di Praga descrive il potere sovrannaturale della voce della topolina al centro dell'opera pubblicata quando l'autore della Metamorfosi era ormai già morto. Sarà Tony Servillo dunque a riprendere la storia di Giuseppina e a metterla in scena su un palco essenziale all'interno del quale l'attore renderà tangibile la capriola letteraria frutto del genio dello scrittore cieco per il pubblico casertano. Tra tutti i topi Giuseppina è l'unica a cantare, scrive Kafka, e quando lo fa ogni animale si ferma ad ascoltare. In realtà Giuseppina, convinta di cantare, semplicemente fischia come tutti gli altri topi, anzi forse persino peggio, ma solo lei, forse perché matta o arrogante, folle o geniale, si separa dalla miseria consacrando tutta se stessa al suo flebile canto indisponente. Piattezza o elevazione o non piuttosto che il popolo nella sua saggezza abbia collocato il canto di Giuseppina così in alto proprio perché in tal modo non potesse andare perduto. Queste le parole dello scrittore che Tony Servillo saprà ben interpretare.